un ciao da emi eccomi qua per parlarvi della quest cisato slatter una quest abbastanza importante che voglio portare alla vostra attenzione seppure molto semplice se non richiede guide non richiede che io faccia un video ve la voglio però significare l'unico modo che ho per significarvela e fare appunto un video perché molto importante c'è utile per sbloccare il porto di arrivo che era se avete visto era inaccessibile in quanto delle guardie ci fermavano e ci facevano presente che non avevamo il permesso per poter andare avanti quindi parliamo con il buon kamaji che l'autore della lettera ovviamente il destinatario della lettera perdonatevi poi scopriremo più avanti che anche l'autore della lettera con estrema semplicità andiamo a parlare con la proprietaria del ristorante cittadino eccola qua la buona anna se non ricordo male parliamo anche con lei e alla fine ritorna il buon kamaji si scopre che la lettera che si è inviato sarà appunto inviato da solo e poi ci dice che questo permesso ci dà il permesso che il permesso ci permetterà di accedere con semplicità per i nostri usi quindi non avremo più vincoli in merito ovviamente a quelli che sono le restrizioni che ci impedivano di non accedere al porto vedete otteneremo tre oggetti il permesso una lettera e un piccolo pacchettino ci dirigeremo dall'ultimo npc per concludere la quest e basterà ovviamente semplicemente parlarci non è una grande difficoltà come vi ho spiegato non ve la significo perché sia complessa ve la significo perché è indispensabile soprattutto nella ricerca degli elettroculus 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 ora vi mostro dopo aver parlato con l'ultimo npc che posso tranquillamente andare al porto e attivare la nave vedete eccomi qua mi raccomando se i miei video dovessero piacervi essere utili o comunque intrattenervi vi invito a sottoscrivere al canale attivando le notifiche e lasciando un mi piace io come sempre vi ringrazio per l'attenzione ringrazio i nuovi iscritti tra cui il buon alexis e lo invito a farmi sapere com'è l'audio del video grazie ancora a tutti e buon proseguimento di giornata